Questa storia merita un video perché è troppo bella. Sono ad Amsterdam e quindi sono arrivato dopo aver lavorato in aereo si è scaricato il computer. Avevo una zoom alle 15 e 30 con un caro amico ed è durata appena 15 minuti perché avevo 10 di batteria. Dopodiché ho chiesto in giro, ho girato qua un chilometro per trovare un carica batteria da collegare e purtroppo sull'ala di questo bellissimo aeroporto di Amsterdam non c'è niente. E quindi ho detto che faccio adesso due ore e mezzo bloccato qui fino all'aereo per Bari che ha le 6 e mezza e poi l'iphone non prende invece il computer prendeva il wifi e allora ho detto ma vediamo che posso fare. La cosa bella è che ho trovato il carrello per poggiare il computer, per poggiare quindi la giacca che fa anche caldo e quindi il trolley. Mi sono fatto prestare una carrozzina per disabili, pensa un po', quindi è stato così gentile questo delle pulizie qua. Poi ho trovato qui, pensa un po', c'è un caricabatterie che nessuno conosce, che si trova dietro la presa, qui dietro la presa di questa urgenza dei pompieri. Alla fine ci siamo sistemati perché ecco qua, inizia adesso il lavoro, sta caricando il computer e quindi potrò lavorare queste due ore anche per il viaggio per Bari da Amsterdam altre due ore e mezzo. Ecco, problem solving, dal vivo. Anziché lamentarsi, i soliti passaguai, i problemi, c'è sempre una soluzione, basta solo trovarla. Ciao.